Il Taranto resta a due punti dalla Ternana, pareggiando in casa col Pisa, perdendo l'opportunità di passare in vetta la classifica, seppure in condominio con la stessa squadra Umbra. Partita a due velocità, con la squadra Ionica, protagonista nel primo tempo. Al terzo minuto, cross di Rizzo, respinta della difesa Toscana, riprende Dideo che colpisce il palo. L'azione prosegue e Chiaretti serve Guazzo, che manda però alto. All'ottavo, Chiaretti salta un avversario, entra in aria, serve Guazzo, ma la sua conclusione viene deviata in angolo. Al trentacinquesimo, Errantier, protagonista della manovra, diceva in aria da Schaudone, tira, ma da buona posizione e manda sul fondo. Ripresa all'insegna dell'equilibrio, colpisa pericoloso il contropiede, il Taranto perde al terzo minuto la palla al centrocampo, Perez entra in aria, tira, Dideo salva in angolo. Al quinto minuto, ripartenza del Pisa, lancio per Perez ancora che salta Sosa e spara alto. E poi dopo cinque minuti si riva vivo il Taranto, Schaudone serve Guazzo, ma il suo tiro è debole. Chiude la squadra Ionica al quarantottesimo, calcio d'angolo, la sfera finisce a Rizzi che a volo conclude, ma il portiere Pisano respinge.